Io sto filmando, ok? No, non è un'esercizio, foro niente, perché? Ah, c'è un'esercizio interna, meglio. Ah, l'ha fatto falsa. Questo biro sarà no. Quanto vien? Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Il polacco è il primo. Il polacco è il primo, il polacco è il secondo, il terzo è il coreano, il quarto è il russo, il quinto è il romanzo. Speriamo bene. È brutto fare una falsa prima, perché non c'è più... Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Grazie.